Un buon Teramo non riesce a sfondare il bunker del Pisa e deve accontentarsi di un pareggio. L'1-1 del Bonolis nella gara di recupero della seconda giornata permette al Pisa di Ringhio Gattuso di restare imbattuto e fare un piccolo passo verso la vetta occupata dalla SPAL. Ma soprattutto non rende giustizia la prestazione generosa e costante dei Biancorossi frenati dalla malasorte o, se vogliamo, dagli episodi. Come previsto, Vivarini rilancia Petrelle in coppia con Moreo e preferisce ancora Cecchini a Dorazio. Gattuso inserisce Sanseverino, cambia modulo e opta per un 3-5-2 a specchio. Ciani e Lores Varela in attacco. Pioggia leggera e costante, si gioca da subito con l'illuminazione artificiale e l'avvio sorride al Pisa perché al sesto il tocco sporco di Ciani su cross di Mannini spiazza la difesa terramana e per l'ex Lanciano e Chieti Luca Verna è un gioco da ragazzi mandare in vantaggio i suoi. Il Teramo però non demorde e macina gioco. Al dodicesimo l'airone Moreo, altra bella prova, si fionda sull'errore di Lisuzzo ma in precario equilibrio non c'entra la porta. Ancora Moreo dalla distanza, Bacci usa i pugni. Preludio al gol del pari, ventiquattresimo piazzato di Amadeo. Difesa pisana poco reattiva, Perrotta incorna sul secondo palo e pesca l'angolo opposto. E' uno a uno col primo gol stagionale per Marco Perrotta che già aveva giustiziato Bacci lo scorso anno quando l'estremo era al tutto cuoio. I biancorossi continuano a macinare gioco ma la fase difensiva pisana tiene bene. Gara ancora più viva nella ripresa, clamorose le due opportunità nei primi cinque minuti. Corner di Amadeo, battuta ravvicinata di Scipioni e Bacci si salva distinto. Ancora angolo di Amadeo dalla parte opposta, tacco volante splendido di Moreo ma Ricci salva sulla linea. Giocata geniale delle centravanti, meritava miglior sorte. Il Pisa raramente riparte, ci riesce all'undicesimo, Tonti allora si distende sul tiro di San Severino. Vivarini inserisce da Silva per Calvano, porta Petrella sulla linea dei centrocampisti. Teramo molto offensivo e che tiene fisicamente nonostante gli sforzi già profusi. Bacci interviene a mano aperta sulla sventura di Amadeo. Alla mezz'ora per poco non ci scappa la beffa. Su una respinta della difesa Ricci calibra una staffilata che coglie la base del palo anche se Tonti era sulla traiettoria. Il Teramo spinge fino alla fine e dà la grande chance al novantesimo. Pregevole, triangolo Petrella da Silva. Il tiro di Petrella è sporco ma scavalca Bacci il palo. Dice no e ricaccia indietro l'urlo del Bonolis. Un peccato, il risultato pieno non arriva ma la squadra è in evidente crescita. Mister, diciamo subito peccato, Teramo meritavi tre punti. Sì, sono molto arrabbiato perché non ci gira a livello proprio di, io non credo nella fortuna perché dobbiamo essere sempre più bravi però in qualche episodio ci poteva essere un po' a favore nostro invece ancora una volta grandissima partita io devo fare i complimenti alla squadra perché sta diventando un bel gruppo, è una squadra che lavora molto bene che ci tiene e ha ripreso uno spirito importante che è lo spirito che piaceva a noi a Teramo quindi adesso dobbiamo continuare su questa strada, migliorare ancora perché abbiamo le potenzialità per crescere e per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Comunque oggi c'è veramente poco da dire alla squadra. Mister, intanto è contento della prestazione del suo Pisa di questo punto? Sì, siamo contenti, abbiamo sofferto tanto, sapevamo che venivamo qua, Teramo è una buona squadra una squadra che è una delle più forti, squadra costruita bene, giocatori bravi tecnicamente saprevamo che ci poteva mettere in difficoltà, ci mancano tanti giocatori importanti però chi scende in campo scende sempre con la testa giusta e devo dire che sono molto contento.